Luca! 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 Ma che signore? Stai su tre qua! Ma che orb te lo faccio trovando qui? Lo stai con setta qua! Ma che orb te lo faccio trovando qui? Lo stai con setta qua! Eccolo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Perché fuori giù? Ma come faceste fuori giù? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ma che vuoi? Non fuori giù? Che cazzo tu hai? GOOOOOOOL! VINCE! GOOOOOOOL! 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 nooo buona va Vincenzino va si non lo fai ma fa mocca al te padre Vincenzi e che cazzo la camera è pronta ma fa tutti i fotografi oggi non lo fai c'è ne mangiare Vincenzi